Cari amici, il 23 agosto nelle sale cinematografiche italiane è uscito il film Oppenheimer, quindi ne approfitto per raccontarvi di due eventi super critici accaduti ai laboratori di Los Alamos. Ma state tranquilli, non vi rovinerò la visione del film a chi ancora lo deve guardare. Gli eventi che vi voglio raccontare sono sì legati alla costruzione di ordini atomici, ma sono accaduti a guerra terminata e il progetto Manhattan in modo informale era terminato. Vi parlerò del temutissimo Demon Core e dei due fisici Harry Deglian e Luis Slotin che persero la vita conducendo esperimenti su di esso. Sia Harry Deglian che Luis Slotin contribuirono notevolmente alla sperimentazione con l'uranio e i test sul nucleo di plutonio che sarebbe stato utilizzato al Trinity Test e in queste foto possiamo vederli durante alcune fasi dei preparativi. Prima però devo fare una piccola menzione inerente alle due bombe prodotte durante il progetto Manhattan, coordinato a livello intellettuale da Robert Oppenheimer e a livello militare dal generale Leslie Groves. Sappiamo che la resa nipponica fu dichiarata il 15 agosto 1945, pochi giorni dopo che i due bombardieri B-29 Super Fortress, Enola Gay e Boxcar, sganciarono rispettivamente la bomba Little Boy su Hiroshima e la bomba Fat Man su Nagasaki. L'aspetto e soprattutto il funzionamento di questi due ordigni erano molto diversi tra di loro. Little Boy era un ordigno all'uranio altamente arricchito che neanche era stato testato se non negli esperimenti eseguiti presso il laboratorio Omega allo Salomos. Questi esperimenti vennero soprannominati dal fisico Richard Feynman fare il solletico alla coda del drago perché per una frazione di secondo veniva creata una massa supercritica mediante la Dragon Machine, una slitta verticale da cui si lasciava cadere una sorta di proiettile d'uranio attraverso e oltre una serie di anelli cilindrici di altro uranio. Le proprietà dell'uranio erano già conosciute e gli esperimenti in laboratorio bastarono per concludere il progetto Little Boy. Fat Man era un ordigno al plutonio più complesso che sfruttava esplosivo convenzionale modellato in una conformazione che avrebbe creato un'implosione comprimendo una specie di sfera di uranio 238 su due semisfere di plutonio 239 contro un iniziatore neutronico costituito da Beriglio e Polonio 210. Di questa bomba fu necessario costruire un prototipo chiamato del Gadget o Christie Gadget dal nome di Robert Frederick Christie colui che aveva eseguito i calcoli che hanno mostrato che una sfera subcritica di plutonio poteva essere compressa in uno stato supercritico. Il prototipo si rese necessario perché il plutonio rispetto all'uranio aveva letteralmente fatto impazzire fisici e ingegneri previa delle caratteristiche estreme di questo elemento. The Gadget fu testato con successo nel famoso Trinity Test il 16 luglio 1945 nel deserto della Iornada del Muerto e rese consapevoli gli scienziati che il plutonio poteva essere utilizzato nella fabbricazione di armi nucleari e che la bomba Fat Man avrebbe funzionato. In origine il nome in codice del Demon Core era Rufus ma dopo aver provocato la morte dei due fisici Henry Deglian e Louise Slotten venne ribattezzato Nucleo del Demonio ovvero Demon Core. Composto da due semisfere che unite tra loro formavano una sfera con un diametro di 89 mm, al centro di essa era presente una piccola cavità sferica di 25 mm di diametro per dare alloggio all'iniziatore neutronico di Beriglio 9 Polonio 210, sopronominato Urchin. La superficie sferica esterna era rivestita con 0,127 mm di nickel per prevenire la corrosione. Il plutonio ha inizialmente un aspetto argente o brillante ma si ossida molto rapidamente fino a diventare grigio opaco. Questo perché il plutonio ha normalmente 6 allotropi che hanno densità e strutture cristalline significativamente diverse. Ciò rende il plutonio molto sensibile ai cambiamenti di temperatura, pressione e inoltre reagisce a contatto con diverse sostanze ed è soggetto ai drastici cambiamenti di volume in seguito alle transizioni di fase. La densità dei diversi allotropi varia dalla più bassa pari a 15,92 g per cm³ in fase alta a 19,86 g per cm³ in fase alfa. Un esempio di allotropia può essere riscontrata nel carbonio che, sottoposto a enormi pressioni e temperature, si trasforma in diamante, conservando lo stato fisico del carbonio ma variando la struttura reticolare dei suoi atomi. La massa critica è la più piccola quantità di materiale fissile necessaria per una reazione nucleare a catena autosostenuta. La massa alla quale si verifica la criticità può essere cambiata modificando alcuni attributi come elemento, aggiunta di altri elementi, forma, temperatura, densità e l'installazione di un materiale che riflette i neutroni. Questi attributi hanno interazioni e interdipendenze complesse. Una di queste è la seguente. Il plutonio in fase delta ha una densità pari a 15,92 g su cm³ ed esiste normalmente nell'intervallo di temperature da 300 gradi Celsius a 452 gradi Celsius, ma può essere stabilizzato in fase delta anche a temperatura ambiente, se legato con una piccola percentuale di gallio, alluminio o cerio. Infatti, le due semisfere di plutonio del Demon Core erano legate con una bassissima percentuale di gallio per abbassare la densità del plutonio e avere un nucleo subcritico di massa pari a 6,2 kg e una densità di circa 15,7 g su cm³, assemblata per essere ad appena il 5% sotto la criticità. Nelle armi a fissione, le onde d'urto esplosive utilizzate per comprimere il nucleo di plutonio, che si trova in origine in fase delta, causano la transizione alla fase alfa, quindi più densa, contribuendo in modo significativo a raggiungere la supercriticità. Il nucleo era stato preparato per un'eventuale terza bomba atomica tipo Fatman da utilizzare contro il Giappone, ma il Giappone si arrese subito. E anche se Fatman funzionò e il Trinity Test fu un successo, rimanevano ancora molti interrogativi sul plutonio, così tanti punti di domanda che il nucleo fu trattenuto allo Salamos per eseguire ulteriori test e per un potenziale uso successivo. Uno dei fisici che continuò con i test fu Henry Daglian, giovanissimo ragazzo di 23 anni, venne inviato ai laboratori di Lola Salamos nel 1944 e assegnato al Critical Assembly Group, del quale faceva parte anche Louis Slotin, ed era guidato dal fisico Otto Frisch. Questi lavoravano presso il sito Omega, conducendo pericolosi esperimenti di criticità per determinare le masse critiche e supercritiche dei materiali fissili. Alle 23 del 21 agosto 1945, durante un esperimento in solitaria, il fisico Henry Daglian stava tentando di costruire manualmente un riflettore di neutroni, impilando una serie di mattoni di carburo di tungsteno da 4,4 kg, in modo incrementale attorno a un nucleo di plutonio di forma sferica, il Demon Core. Lo scopo del riflettore di neutroni era di riflettere i neutroni emanati dalla sfera di plutonio contro la sfera stessa, affinché raggiungesse la criticità, così da poter misurare con appositi strumenti. Mentre Daglian stava spostando l'ultimo mattone sull'assieme, i contattori di neutroni lo allertarono del fatto che l'aggiunta di quel mattone avrebbe reso il sistema supercritico. Mentre ritirava la mano, lasciò cadere inadvertitamente il mattone al centro dell'assieme, generando un flusso di neutroni e raggi gamma da numero di fissioni pare a 1 per 10 alla sedicesima. In quel momento l'unica persona presente, oltre al fisico, era la guardia Emerly, che in seguito riportò che il giornale che stava leggendo si illuminò di una luce accecante. Daglian reagì immediatamente, togliendo il mattone che gli era caduto e smontandolo assieme costituito dai mattoni posizionati in precedenza, aumentando il tempo di permanenza in prossimità delle emettitori di radiazioni e al materiale attivato, rimanendoci ben 10 minuti. In questo modo, oltre alla dose dei neutroni, Daglian ha ricevuto una pesante dose di radiazioni beta e gamma alle mani e alle braccia. Nel suo caso, se non avesse insistito nel rimanere così vicino al materiale radioattivo, c'erano buone possibilità che la dose assorbita potesse essere di gran lunga inferiore. Si stima che Daglian abbia ricevuto una dose di radiazioni ionizzanti pari a 5,1 Sievert. E nonostante le incessanti trasfusioni di sangue e le cure dei medici, la dose assorbita dal suo corpo era stata troppo alta e si svilupparono gravi sintomi da avvelenamento da radiazioni. Questa era la mano di Harry Daglian fotografata dai medici il 30 agosto 1945, dopo aver ricevuto la sua fatale dose di radiazioni. Il fisico morì 16 giorni dopo che fu scattata questa foto, cioè 25 giorni dopo l'incidente. La madre e la sorella di Harry furono portate in aereo presso lo Salamos e aiutarono a prendersi cura di lui durante i suoi ultimi giorni di vita. Harry Daglian morì il 15 settembre 1945. Il suo corpo fu riportato a New London, dove venne sepporto al cimitero di Cedar Grove. Nel 2000, la città di New London ha eretto una lapide commemorativa e un penone a Culkin's Park, in onore di Daglian. Il monumento recca un'iscrizione, sebbene non in uniforme, morì a servizio del suo paese. A seguito dell'incidente, le norme di sicurezza per il progetto sono state esaminate e riviste, includendo l'obbligo di almeno due scienziati presenti durante lo svolgimento degli esperimenti, l'utilizzo di almeno due strumenti con allarmi acustici che monitorassero l'intensità dei neutroni e la preparazione di un piano operativo per lo svolgimento di questi pericolosi test. Dopo l'incidente di Daglian, nell'aprile 1946, venne presa la decisione di trasferire il sito per gli esperimenti sulla criticità in una zona più remota, nell'edificio di nome TA-18, in quello che oggi viene chiamato Slotin Building, situato in un canalone chiamato Paiarito Canyon. Purtroppo, questi cambiamenti non hanno impedito che si verificasse un altro incidente critico a Los Alamos. L'incidente di Louis Slotin si verificò nel pomeriggio del 21 maggio 1946. In realtà non si trattava di un vero esperimento, ma di una dimostrazione di come doveva essere eseguito il test di criticità sul Demon Corps al futuro successorio di Slotin, il fisico Alvin Graves. Prima dell'incidente, i funzionari di Los Alamos si aspettavano di inviare il nucleo all'attolo dei Bichini, nelle isole Marshall, come parte dell'operazione Crossroads, la prima serie di test nucleari del dopoguerra, dove erano previste tre esplosioni di bombe a plutonio tipo Fat Man, sopra un bersaglio composto da una flotta di navi in disarmo. Il primo test, battezzato Abel, venne eseguito il 1 luglio 1946, con un'esplosione a 158 metri di quota sopra il bersaglio. Il secondo test è stato Baker e la bomba fu fatta esplodere il 25 luglio 1946 a 27 metri di profondità nell'oceano. Questo creò un aumento della radioattività in tutta la zona, talmente alta da dover annullare il terzo test programmato per il 1947, in cui sarebbe stato usato il Demon Corps. Comunque, il nucleo era ancora abbastanza radioattivo da non poter essere utilizzato. I registri di Los Alamos indicano che il nucleo, nell'estate del 1946, fu fuso e miscelato con altro plutonio e riposto nelle scorte di materiale fissile per armi nucleari. Anche Slotin aveva in programma di andare a bikini per visionare i test e poi assumere, a test completati, una posizione di professore all'Università di Chicago. Tornando a quel fatidico pomeriggio, oltre a Louis Slotin e Alvin Graves, c'erano altre sei persone all'interno della stanza mentre Louis stava mostrando come portare il nucleo di plutonio quasi al punto critico. Un'operazione complicata e molto rischiosa. In pratica, come vedete in foto, il nucleo di plutonio 239 era posizionato nella cavità di un emisfero di beriglio. Il beriglio è un forte riflettore di neutroni e serviva per capire come portare il nucleo di plutonio quasi allo stato critico. Insomma, si doveva misurare a che distanza posizionare un secondo emisfero al di sopra, avvicinandosi alla criticità ma senza raggiungerla. Slotin non seguì le norme di sicurezza. Egli aveva eseguito questo test parecchie volte e si sentiva sicuro di sé. Uno sgomento Enrico Fermi disse a Slotin che sarebbe morto entro un anno se avesse continuato a infrangere i protocolli di sicurezza. Il protocollo standard che vedete in questo momento era quello di usare degli spessori nella prima fase di posizionamento del beriglio superiore, poi toglierne uno e continuare l'esperimento con un solo spessore posto tra i due emisferi, in modo da evitare la completa chiusura tra di essi. Slotin non utilizzò nessun spessore. Egli utilizzava la sua mano a sinistra infilando il pollice nel foro alla sommità dell'emisfero superiore, per abbassare e tenere in posizione i riflettori di beriglio attorno al nucleo, mentre con l'altra mano, utilizzando un comune cacciavite a tassa piatta, alzava e abbassava la parte superiore di beriglio mantenendo una piccola distanza tra i due riflettori, per mantenere l'assieme in fase subcritica. A un certo punto, il cacciavite scivolò fuori dall'assieme, causando la completa chiusura dei due emisferi di beriglio attorno al nucleo di plutonio. Immediatamente il nucleo era entrato in uno stato supercritico. Ci fu l'emissione di un potente flusso di neutroni e raggi gamma, fino all'immediata reazione di Slotin, che con una rapida torsione del polso ribaltò l'emisfero superiore facendolo cadere sul pavimento e fermando le reazioni di fissione. Il corpo di Slotin era posto quasi sopra il dispositivo, ricevendo una dose letale di 21 Sievert, da un numero di fissioni pari a 3 per 10 alla quindicesima. Alvin Graves era vicino a Slotin ed era parzialmente schermato da lui. Quest'ultimo ha ricevuto un'alta dose di reazioni per circa 3,6 Sievert. Ricoverati in ospedale per diverse settimane, si riprese contro ogni previsione. Slotin ha riferito un immediato sapore acido in bocca e una sensazione di bruciore alla mano sinistra usata per scomporre l'assieme. Prima di essere portato in ospedale, insieme agli altri presenti, disegnò un diagramma per capire approssimativamente la posizione di ogni persona presente durante l'incidente. Lo stesso schizzo è stato utilizzato dai medici e dai fisici per determinare la quantità di radiazioni a cui ogni persona era stata esposta. Mentre Slotin veniva portato d'urgenza in ospedale, i primi sintomi iniziarono ad apparire. Vomitò parecchie volte e dopo essere arrivato all'ospedale di Los Alamos, Slotin disse ad Alvin Graves «Mi dispiace di averti convolto in questa cosa. Temo di avere meno del 50% di possibilità di sopravvivere. Spero che tu abbia di meglio». Purtroppo, tutti gli sforzi per salvare Slotin sono stati inutili. Egli morì il 30 maggio, 9 giorni dopo l'incidente, all'età di 35 anni, a seguito di una straziante sequenza di traumi indotti dalle radiazioni e una totale disintegrazione delle funzioni corporee. Purtroppo, Fermi aveva ragione. Il generale Leslie Groves inviò un DC-3 dell'esercito americano Winnipeg per portare i genitori di Slotin al suo capezzale pochi giorni prima dalla sua morte. Poiché gli Slotin erano ebrei ortodossi, il funerale ebbe luogo domenica 2 giugno 1946 a casa della famiglia Slotin, a Winnipeg. Quasi 3.000 persone si radunarono davanti alla casa della famiglia e sentirono il rabbino descrivere Louis come uno degli studiosi più brillanti mai usciti da questa città. In risposta alla sua morte e a quella di Deglian, i laboratori di Los Alamos interruppero tutti gli esperimenti manuali con assemblaggi critici, avviando studi e progetti per dispositivi di tasse telecomandati a distanza, che alla fine portarono alla creazione dei laboratori di tasse da remoto Kiva 1, Kiva 2 e Kiva 3. Questi siti erano posizionati nello stesso Pajarito Canyon, dove ancora oggi è possibile vedere e visitare lo Slotin Building, facendo un tour del parco storico Manhattan Project National Historical Park. Spero che il video vi sia piaciuto, se così fosse iscrivetevi al canale e lasciate un like. Spero che il video vi sia piaciuto, se fosse iscrivetevi al canale e lasciate un